La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla nostra rassegna stampa Partiamo con il mattino, il titolo di apertura Arriva il reddito d'emergenza Bonus da 1.600 euro da spalmare in due mesi Per 6 milioni di cittadini stanziati 10 miliardi Buoni spese e pacchi cibo, la distribuzione parte subito Intanto contagi stabili, forse siamo vicini al picco E poi il caso si spacca il fronte dei falchi europei anti-covid bond Sul centro pagina, pasta e prestiti, il virus welfare dei clan a Napoli Gli investigatori cercano il consenso per il futuro Congelata l'usura, spaccio a domicilio in scooter Sempre su centro pagina, Mario disoccupato di scampia Campavo con le pulizie in nero A 57 anni non guadagno nulla Poi l'intervista all'ex ministro Giovannini Condizioni drammatiche Dice sostenere anche gli irregolari Occorre una misura specifica per sostenere i più deboli E quelli esclusi da altri sussidi Così dice l'economista ed ex ministro Enrico Giovannini Questa era la prima pagina E andiamo a vedere Le mosse del governo con il reddito di emergenza Fondi fino a 10 miliardi Il nodo del lavoro nero Allo studio del tesoro Nuovo paracadute per far fronte alla crisi La platea è di 6 milioni Bonus da 1.600 euro da spalmare in due mesi Braccio di ferro Su chi opera nel sommerso Un bonus da 1.600 euro da spalmare su due mensilità Aprile e maggio Per sostenere i lavoratori privi di ammortizzatori sociali e reddito Sostegno anche a chi percepisce compensi in nero Ed è a causa della crisi in seria difficoltà economica Una platea fino a 3 milioni di persone Che arrivano a 6 comprendendo anche gli autonomi Le partite IVA Agricoltori protetti Già da marzo Si prepara a dividersi 10 miliardi che il governo sta pensando di mettere sul piatto Per finanziare il RE Macronimo di reddito di emergenza Invocato in queste ore In particolare dei 5 stelle Da molti sindaci del sud Ma al tesoro non tutti Sono d'accordo soprattutto sulle stime Dei lavoratori in nero troppi Per la ragioneria I 3 milioni stimati E troppo elevati i costi Per legittimare chi non è in regola Andiamo avanti Andiamo a vedere quali sono gli aiuti Buoni spese e pacchi cibo La distribuzione parte subito I comuni servono più soldi Questo chiedono I servizi sociali Distribuiranno i voucher Spendibili in supermercati convenzionati Ma 400 milioni non bastano Scusate ma 400 milioni bastano solo fino al 15 aprile I sindaci chiedono risorse per almeno un miliardo I 400 milioni destinate ai comuni Che li utilizzeranno Per distribuire buoni pasto E vivere a quella parte della popolazione messa a dura prova Dal coronavirus arriveranno presto Immediatamente Ma presto sono destinati a finire Basteranno secondo le stime del Lanci Fino al 15 aprile I comuni avevano chiesto almeno un miliardo di euro Ma per ora Non è stato possibile andare oltre Il ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli Ha assicurato che 400 milioni sono solo il primo atto Altre risorse insomma arriveranno Ieri il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha firmato L'ordinanza che distribuisce i soldi agli 8 mila comuni italiani Stabilisce le regole per il loro utilizzo Andiamo a vedere qual è la situazione in Campania Intanto Case di riposo esplode la bomba sanitaria De Luca controlli nelle strutture dedicate Ieri due vittime in Erpini A Focolai e a Benevento Nuovo record di infettati 193 in un giorno Cresce il numero dei tamponi 1.945 i contagi Se è vero che le prossime due settimane Saranno cruciali per capire l'evoluzione Dell'epidemia da Covid-19 Anche è vero che i problemi quotidiani Assillano e non poco il presidente della regione Vincenzo De Luca in queste ore Visto quello che sta succedendo a Villa Margherita Benevento Preoccupano e non poco le condizioni Delle RSA Residenze sanitarie assistenziali Dove i contagi hanno dei picchi sospetti Come a Sant'Anastasia nella casa di riposo Gestita dai frati Domenicani di Madonna dell'Arco Dove ieri c'è stata la decima vittima Un anziano frate ex parroco De gente da tempo nella struttura Ma la situazione va lentamente normalizzandosi Grazie a 14 nuove assunzioni di operatori Che sostituiscono quelli risultati positivi Ma è successo anche qua in provincia di Salerno Dove sono 45 le persone rimaste contagiate Nella casa di cura Istituto Juventus di Sala Consilina 35 di loro sono ospiti del centro Ai quali si devono aggiungere 9 operatori Lo stesso presidente della fondazione Che gestisce il centro nel cuore di Sala Consilina Tre degli ospiti hanno perso la vita Tra loro anche Gian Battista Scialpi 87enne, uno degli ultimi maestri ceramisti del Vallo di Diano Il primo ad essere risultato positivo il 14 marzo Il contagio è stato letale anche per Antonietta Pica Di 87 anni Da sabato l'ASL ha disposto il trasferimento Di tutti i pazienti risultati positivi Da Sala Consilina al Campolongo Hospital di Eboli Dove possono ricevere un'assistenza ospedaliera Adeguata alle loro condizioni fisiche Lasciamo questa pagina Andiamo a vedere che cosa sta succedendo in Europa Covid Bond Prime crepe tra i falchi E scatta la trattativa tra i ministri Resta lo sbarramento al sostegno comune Ma i verdi tedeschi aprono Basta egoismi Settimana decisiva per un compromesso Scholz Ora puntiamo sul fondo Salva stati E quindi sarà una settimana di negoziato molto intenso Tra gli scerpa dei ministri del tesoro della zona euro Tutto sotto traccia Nessuno dei fronti contrapposti a interesse A rinfocolare le polemiche Tutti si rendono conto della necessità Di trovare soluzioni Per evitare una rottura Nel momento in cui va garantita Un'effettiva cooperazione Per l'emergenza sanitaria E per evitare che Dalla semi paralisi economica Scaturisca una crisi finanziaria Questo era il mattino Andiamo sulla città Il titolo di apertura Gli anziani confinati nel deserto Viaggio da Sala a Ebole Assistenza a rischio Iervolino parla di una scelta di emergenza Centropagina Tre vittime Sarno piange Il gigante buono Muore il cancelliere Un cancelliere ad Agropoli Poi l'intervista Masi di CNF Avvocatura Aiuti E sostegno nell'emergenza Il giallo Morto di covid Ma il tampone a mio marito Quattro gli indagati Poi l'allarme Famiglie e fame Banco alimentare Un vertiginoso aumento di aiuti Di lato la tragedia Precipita in un abuco Operaio perde la vita A Battipaglia Pensionato investito Decesso dopo L'agonia Salerno Folle corse in auto Bloccato dai militari Nocera inferiore Coltellate al vicino Domiciliari altrove Di taglio basso Rebus Campionati Anche aprile Sarà senza calcio Salernitana Pronta per l'eventuale ripartenza Figgici al lavoro Diamo un'occhiata Alla prima pagina Di cronache Apre con Eboli Pazienti contagiati Non isolati Al campo longo Scoppia la polemica Dopo il trasferimento Dei malati La denuncia Dei consiglieri Del PD Infanterrizzo Anche l'associazione Eboli 3.0 Chiede Trasparenza Centropagina Banco alimentare Da cibi scaduti Ad una famiglia Cresce L'emergenza sociale Aumentano I decessi La gente Continua ad aspettare Giorni Per un Tampone E poi È morto Tonino Agresta Cancellere del Tribunale Si registra Il primo decesso A Pagani Manzi Un pizzaiolo Parla Della sua situazione Costretti a gettare il cibo Giusto Diffondere i nomi Dei contagiati E poi banche Ritiro pensioni L'allarme Del sindacato Di lato Il fatto Ripartizioni Tra i comuni Per i buoni spesa Sindaci perplessi Salerno Clinica del sole Contagiati due medici La direzione Parla di nessun pericolo Poi l'annuncio Del ministro Del ministro Speranza Proroga Delle misure Il sacrificio Non è breve Non sarà breve Cava dei Tirreni La figlia Del dottor De Pisapia Mio padre Abbandonato E Scafati Forza Italia Attende la mano Al sindaco Situazione Dell'ospedale Da verificare Termina qui La prima parte Della nostra Rassegna stampa Diamo la linea Alla regia Per qualche minuto Di pubblicità Ben ritornati in studio Riprendiamo la rassegna stampa Con la prima pagina Del mattino di Salerno Il titolo di apertura Tre morti Il virus Non si ferma Paura Il ruggi Si aggravano i positivi Di 15 giorni fa Ma c'è Cauto Ottimismo Sui contagi A Sarno La vittima più giovane 39 anni Agropoli Addio Un 55enne Lavorava in corte D'appello Centro pagina Sempre l'emergenza Bonus Spesa per i poveri Ecco la mappa I sindaci Bene Ma non bastano Al capoluogo Meno di 800 mila euro La scuola Il ritorno in classe Si fa più lontano Un milione Per le lezioni A distanza L'economia Piccole e medie imprese Nuovo SOS La ripresa Va programmata Adesso Di lato Il focolaio Anziani In ospizio Sul trasferimento I veleni Poi l'ok Tutti a deboli La buona notizia Primo guarito Al polo Covid Un 66enne Di cava Torna a casa Sempre di lato Due storie La prima Resto qui A Santomenna Per aiutare La comunità E poi L'altra storia Vivo al Cairo In isolamento Il sistema Egiziano Può collassare Questa era la prima pagina Del mattino Di Salerno Andiamo a vedere Che cosa È successo All'ospizio Anziani Via Dall'ospizio Dubbi Veleni Accuse Poi l'ok Tutti a deboli Stamattina Il via Il trasferimento Da sala Consilina Dopo 24 ore Di polemiche E mediazioni Restano i timori Sulla scelta Dell'ospital Campolongo Non è una struttura Adatta Sabato L'annuncio Da parte Dell'asl Senza avvertire Praticamente Nessuno Dei soggetti Interessati Poi Le proteste Del sindaco Di eboli Infine Dopo un Balletto Sui numeri La decisione Finale Tutti gli ospiti Risultati positivi Nell'interno All'interno Della casa Di riposo Istituto Juventus Di sala Consilina Sono 32 Saranno trasferiti Ad eboli Nel Campolongo Hospital Si cercherà In questo modo Di supportare E curare Nel miglior modo Possibile Gli anziani Che sono stati Contagiati Dal coronavirus Tra Tre Gli ospiti Tre degli ospiti Hanno perso La vita Nel corso Degli ultimi giorni Quindi stamattina Il trasferimento Da sala Ad eboli Andiamo avanti Ma rimaniamo Sempre sul mattino Andiamo a vedere Che cosa sta succedendo Sul fronte Della scuola Rientro in classe Lontano Arriva Un milione Di euro Per le scuole Salernitane Le risorse Sbloccate Dal ministero 265 mila euro Destinate al capoluogo L'obiettivo Favorire Le lezioni A distanza I precari Spostano Sul web La protesta Videoparty Su facebook Per chiedere Lo stop Del concorso Straordinario Sempre su questa pagina Piccole imprese Nuovo grido D'aiuto La ripresa Va programmata Adesso Confesser Centi Scrive a De Luca E prete Un tavolo Chiede un tavolo In regione Gli artigiani CNA Trasformano Le attività Per produrre Mascherine Poi IVA E contributi Guida alle agevolazioni Del Cura Italia Passiamo ora Alla cronaca Morte Sospetta Sospetta In corsia Quattro Medici Indagati Commerciante Cinquantenne Ispirato sette giorni fa A San Severino Si pensò al covid Ma in ospedale Non gli fu praticato Il test La famiglia accusa Atteso due ore Prima di essere visitato La procura di Noce Era pronta A disporre Tampone E Autopsia Poi Bedovo Non regge Allutto Si toglie la vita A Mercatello Coltellate Al padre Il figlio Si costituisce Ha coltellato Il padre Ha vagato Per molte ore Per le strade Di Battipaglia La scorsa notte Si è costituito Retandosi Dai carabinieri Verso le 4 Della scorsa notte Un 24enne Battipagliese Ha abbarcato La soglia Della caserma Dei carabinieri E si è costituito Andiamo nel Cilento Cilentano Colpito E ucciso Nel cantiere In Bulgaria Un uomo Di 63 anni Gerardo Di Muoio Di perdifumo E morto A causa Di un incidente Avvenuto In un cantiere In cui stava Lavorando In Bulgaria Di taglio basso Auto in fiamme Carabinieri Aggrediti Il conducente Ricoverato In psichiatria Un'auto distrutta Dalle fiamme Un ricovero In psichiatria Due militari Contuse Il bilancio Di un pomeriggio Di follia Quello di sabato Che ha visto coinvolto Un uomo E diverse pattuglie Del nucleo radiomobile Del comando provinciale Dei carabinieri Di Salerno Costretti A rintracciare E immobilizzare Una persona Che aveva totalmente Perso il controllo E che ha scorrazzato Da Ponte Barizzo A via San Leonardo A bordo di un'auto Priva di pneumatici Che incedendo Con i cerchi Sull'asfalto Produceva scintille Pericolose Sia per l'occupante Della vettura Che per Eventuali altri mezzi Nelle Vicinanze E infine Non sopravvive L'anziano Travolto Da un pirata Che è deceduto In ospedale Dopo diversi giorni Di agonia Alfonso Bovino 86 anni Battipagliese Dieci giorni fa Era stato investito Da un'auto Mentre attraversava La strada A Battipaglia E queste erano Le pagine Del mattino Andiamo su Crona Che in primo piano Buoni spesa Queste le somme Per l'emergenza Buoni spesa Salerno 784 mila euro Per 60 comuni In meno di 20 mila euro A Salerno Città Dunque Andranno 784 mila euro Questa la somma Destinata al capoluogo Di provincia In base all'ordinanza Della protezione civile Che stanzia 400 milioni Per i comuni A supporto Dell'acquisto Di generi alimentari Per le famiglie In difficoltà Dopo l'annuncio Del premier Conte Arriva il riparto Per i comuni D'Italia In base al numero Di abitanti Ciascuno dei comuni Autorizzato All'acquisto Di buoni spesa Utilizzabili Per l'acquisto Di generi alimentari Presso gli esercizi Commerciali Che saranno Indicati In un apposito Elenco Creato Su ogni territorio I sindaci Dovranno individuare Una platea Di beneficiari Tra i nuclei Familiari Più esposti I rischi derivanti I rischi derivanti Dall'emergenza Coronavirus Con priorità Rispetto a quelli Non già assegnatari Di altri Sostegni Il riparto Avviene Secondo due parametri Il numero Di abitanti E la distanza Tra il valore Del reddito Procapite Di ciascun Comune E il valore Medio Nazionale Ponderato Per la rispettiva Popolazione E ci sono state Diverse Reazioni Da parte Dei sindaci Morra Di Pellezzano Dice Sono perplesso Palmieri Di Roscigno Parla di Elemosina Volpe Di Bellizzi Dice Faremo Presto Queste alcune Delle reazioni Andiamo avanti Andiamo a Eboli Malati Covid A Campolongo La polemica Ora si fa Aspra Preoccupazione Per l'accoglienza Dei pazienti Provenienti Dal Vallo di Diano Da Sala Consilina L'associazione Eboli 3.0 Da anni impegnata Sul fronte amministrativo Di questa città Ha elaborato Una lettera Aperta L'attivismo Del sindaco Cariello Tende a coprire Ogni spazio Le iniziative Diventano Frenetiche Battipaglia A coltella Del padre Finita la fuga Di Daniele Si è presentato Presso la caserma Dei carabinieri Successivamente Sottoposto A TSO Stazionare Le condizioni Del 66enne Agropoli Ordinanza Spesa Al massimo Due volte A settimana A deciderlo Il primo Cittadino Coppola Poi Eboli Raccoglimento In preghiera Al cimitero Per i morti Da coronavirus Iniziativa Voluta Da Monsignor Vincenzo Caponigro Rettore Del santuario Di Sant'Antonio Spostiamoci a Polla Più tamponi E un'ambulanza Per i contagiati La richiesta Inoltrata Dal primo Cittadino Rocco Giuliano Al delegato Regionale Per la sanità Bruno Coscioni Il sindaco Di Polla Che ha partecipato Al tavolo tecnico Tenutosi presso Il Luigi Curto A cui hanno partecipato Il delegato Della sanità Della regione Campania Enrico Coscioni Mario Iervolino Poi il Direttore generale Dell'azienda sanitaria Poi il direttore Sanitario Del Luigi Curto Coadiuvato Da Domenico Rubino E da Luigi De Angelis Chiede Il sindaco Chiede più Tamponi E un'ambulanza Attrezzata Per il trasporto Dei Contagiati E rimaniamo Nel Vallo di Diano Nasce una stazione radio Un gruppo di giovani In questo momento Difficile Storico Ha messo in piedi In fretta E fatto partire A Polla Un'emittente radiofonica Davvero particolare Si tratta di Punto Radio La radio che viaggia Su un binario La struttura Che la ospita È una casetta Una costruzione Ferroviaria Appunto Posta al centro Del binario Della stazione di Polla Della linea Dismessa Della Sicignano Lago Negro Santa Marina Autorizzare i laboratori Convenzionati All'analisi Dei tamponi E quanto chiede Il sindaco E poi per di fumo Incidente Sul lavoro In Bulgaria Muore il cilentano Gerardo Di Muoio E morto Mentre lavorava Alla costruzione Del gasnotto Balkan Stream Nei pressi Della città Di Pleven E queste erano le pagine Di Crona Che termina qui La nostra rassegna stampa Grazie per essere stati con noi Anche oggi Buona giornata Si Buona giornata